Una bassa pressione centrata sul canale di Sicilia porta ancora maltempo sulle regioni meridionali, mentre l'alta pressione si instaura sul nord della penisola. Nelle prossime ore un nuovo impulso perturbato associato ad aria fredda in quota e proveniente dalla Francia comincerà a interessare la penisola. In Toscana, giovedì 14 novembre, cielo parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità, possibilità di piogge sparse dal pomeriggio in intensificazione in serata. Venti deboli, mari poco mossi, temperature in calo. Sul territorio provinciale, cielo da poco nuvoloso a coperto in serata, con deboli piogge. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 12, massima 18 gradi. In Versilia e sul litorale, minima 12, massima 19. In Garfagnana e zone montane, minima 11, massima 19 gradi. Grazie per la visione!